Picchiava la moglie e dopo due anni finisce in cella arrestato dai carabinieri un 42enne. Reo di aver picchiato la moglie anni di vestazione e botte un 42enne del luogo è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Siracusa Ortigia in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catania poiché è stato riconosciuto colpevole di maltrattamenti in famiglia e percorse e commesse nel 2022 a Siracusa e condannato a un anno e quattro mesi di reclusione. Al termine delle formalità del rito, in esecuzione di un ordine di cancellazione emesso dall'ufficio di esecuzione penale della Procura della Repubblica presso il tribunale di Catania, l'uomo è stato associato alla casa circondariale Cavadonna di Siracusa come disposto dall'autorità giudiziaria etnea.